Che sogno è meraviglioso! Che sogno è meraviglioso! Adesso ho capito perché la società fa ancora questo mestiere. Quando ti piace a Kikea? Già, gli omatismi, la cataratta, l'osteoporosi... L'osteoporosi... Osteoporosi, beh, che fate ancora qui? Sono pronti i regali. E la mia scopa? Vuoi dire che la tatturboscopa è di ultimo modello? Sì, signora, è pronta! Mettiti il casco! E buon viaggio, Befana! Mettiti il casco! Grazie a tutti. Grazie a tutti.